Ciao a tutti dai The Sure, volevamo ringraziare tutti quelli che hanno votato la nostra video intervista sulla pagina Lavica Rock. Volevamo dirvi anche che giorno 11, 12 e 13 settembre al parco di Via Grande Antonio Aniante potrete trovarci nello spettacolo Lavica Rock. Un saluto. Grazie per la visione!